Dopo il caldo libeccio e le temperature primaverili, ecco la tramontana, vento forte da nord, col possente anticiclone delle ultime due settimane che all'improvviso ha ceduto alla bassa pressione, ampia e profonda, proveniente da Scandinavia e Balcani, che ha portato in Abruzzo intensi flussi di aria gelida, investendo il litorale con forza e mettendo a nudo criticità che si ripetono puntualmente. I venti nord-orientali di Burrasca, lungo la costa dei Trabocchi, hanno riproposto problemi ormai noti. Stabilimenti balneari in Balia delle Onde, strade sui lungomari minacciate senza riparo, intere zone a rischio idrogeologico da anni che continuano ad essere inghiottite dai marosi. Lago Dragoni a Torino di Sangro e Casalbordino, lungo la costa a sud, i luoghi più devastati che conteranno ancora una volta i danni. La Tramontana insiste e non ha intenzione di dare tregua, mettendo a dura prova il litorale, che da anni necessita di protezione seria, al di là di interventi spot e conseguente sperpero di denaro pubblico. Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale d'Abruzzo, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha emanato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per le prossime 24 ore, col persistere di venti forti su tutto Abruzzo, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri e anche sui crinali appenninici. Le mareggiate presenteranno il conto, ma questa è storia vecchia.